allora ragazzi bentornati sul canale glacialazze oggi vi porto una nuova recensione e ditemi chi di voi non ha mai giocato a un suo videogioco chi è che di voi non ha mai saltato su e giù girellato come una trottola rotto scatole per vari mondi ma le isole giro vagato con motoscarpi motori ebbene stiamo parlando proprio del nostro amato crash bandico direttamente dalla casa neca e vediamo direttamente il nostro personaggio dentro il box come si presenta abbiamo questa scatola tutta in in plastica praticamente con la parte frontale già che lascia intravedere il nostro crash bandico con un'immagine direttamente dal videogioco e dietro uno sfondo sempre con il luogo sempre evidente al videogioco crash bandico attenta dalla playstation 1 nei lati ovviamente trasparente dietro una fantastica immagine dell'action figures modificato ovviamente a modi videogioco ispirato proprio al videogioco quando si trova sull'isola poi dall'altro lato ovviamente trasparente sopra trasparente e sotto ci sono le varie marche e chi ha creato queste action figures ovviamente questa modalità di box non mi piace tanto perché essendo tutte in plastica per andare ad aprire sarà disastroso praticamente perché si andrà a distruggere tutta e si andrà a perdere quindi speriamo che in futuro magari li faranno nuove versioni ovviamente con una scatola anche migliore come quelle che fanno ultimamente la neca sempre con gli sportellini e la vetrina che si possono anche conservare volendo ma non perdiamo altro tempo e andiamo con una bella magia a vedere il nostro personaggio fuori dalla box ed ecco il nostro crash fuori dalla blister con un'operazione chirurgica degna del miglior dottor stress sono riuscito a uscirlo senza distruggere la scatola ovviamente e all'interno c'era il nostro crash che era un po bloccato dal blister quello interno è stato un po più complesso quello dell'aereo riusciva a uscirlo ma ce l'abbiamo fatta quindi vediamo quello che si trova all'interno del blister questo era lo sfondo che c'era proprio si vedeva anche dalla parte esterna del blister che abbiamo visto poco fa la parte frontale e la parte del retro e a grande sorpresa ho trovato questa scatola questa chicca all'interno che è tutta fatta di cartone di retone diciamo rigido che ripiegando su se stessi incastronandola si crea questa questo box questa scatola come nel videogioco praticamente oltre a questo non ci sono altri accessori per purtroppo però abbiamo il nostro crash andiamo a vederlo direttamente nel dettaglio già primo a prima vista già si vede che è ben fatto lo scalt è qualcosa di pazzesco come al solito la necca non si smentisce mai vediamo tutti i dettagli dei peli del nostro marsupiale il nostro bandico bellissima anche i colori la sfumatura dei colori dal rosso più scuro all'arancio dall'arancio quello più scuro all'arancio più chiaro anche qui nella cresta che hanno scolpito pazzesca pure ben fatta da l'idea proprio del ciuffo di capelli che va in avanti anche qui c'è la sfumatura tra il giallo giallo molto più chiaro all'arancio rosso più scuro e poi abbiamo lo scatto dei guanti dei pantaloncini di tutto qui il dettaglio dei laccetti sempre in plastica morbida e i pantaloncini quasi come sembrano un costume praticamente tra il jeans e il costume da bagno sembra quasi e poi le scarpette che hanno pure qui addirittura lo scatto a far capire proprio che siano fatti di di pelle quasi nell'impresione qualsiasi siano delle converse con i laccetti e poi abbiamo nel plastica un po più lucida più liscia diciamo gli occhi e il naso mentre adesso è tutto fatto in con i vari segni che ovviamente stanno indicare il pelo a parte poi anche la parte sotto che non è senza pelo oltre a questo andiamo a vedere direttamente tutte le articolazioni che possiede il nostro crash allora partiamo dal braccio che si può piegare verso la parte alta sulla spalla però non è un grande raggio non arriva neanche a 90 perché bloccato dalla scultura quindi è limitato qui per quanto riguarda il piegamento al gomito questo è completo arriva più a 90 poi c'è piegamento alla mano che può ruotare ovviamente 60 e fare avanti e indietro la mano è fatta in plastica morbida come si può notare poi abbiamo il piegamento alla gamba che si può alzare sempre di un raggio molto molto ampio però si può fare avanti e indietro poi non c'è il piegamento al ginocchio ma c'è soltanto la rotazione al ginocchio o se c'è c'è molto piccolo perché non riesco a preparare più di tanto anche se vedo che ci sia c'è una cerniera però non voglio sforzare più di tanto perché le gambe sono pure molto fini poi abbiamo il piegamento al piede che può anche ruotare e traslare tra nei lati oltre a questo abbiamo il piegamento al busto che è molto limitato pure colpa di pello scalp anche se qui vediamo il segno della giuntura ma non può più di tanto che ovviamente può svuotare ma non può piegare più di tanto perché dentro lo scatto non lo consente e poi abbiamo l'articolazione alla testa che può ovviamente ruotare non andare avanti indietro lo so sempre per il solito discorso della forma del personaggio che non permette la piegatura e poi abbiamo questa cosa geniale dell'articolazione alle sopracciglia che hanno apparente due pegga dietro di esse e possono essere ruotate e quindi per creare le varie espressioni del personaggio che appunto è uno dei più espressivi espressioni iconica proprio di crash oltre a questo il piegamento alle gambe non può arrivare a 180 ma ha un buon raggio quasi 90 adesso non ci sono altre articolazioni ma passiamo alla misurazione dell'altezza ecco il nostro simpaticone crash che voleva barare per essere misurato ma ovviamente noi non misureremo pure la scatola ma soltanto lui misurando fino alla testa praticamente siamo sui 13 cm quindi sarebbero 5 pollici mentre se contiamo anche il ciuffo il crestino siamo sui 15 cm quindi quasi 6 pollici mentre per quanto riguarda il nostro peso siamo sui 151 grammi che per una figura comunque così piccola devo dire che è tanta roba perchè è tutta plastica in pratica pesante quindi rigida bella piena di qualità ed eccoci arrivati nell'angolo del personaggio quindi chi è Crash Bandicoot? perchè è stato creato? allora Crash Bandicoot è un o semplicemente Crash è un personaggio immaginario dei videogiochi dietro da Naughty Dog nel 1996 protagonista dell'omonima serie uno dei motivi principali per cui Naughty Dog scelse di sviluppare Crash Bandicoot per PlayStation è stata la mancanza di un personaggio mascotte della Sony che potesse competere con Sonic, The Edge e Hog della Sega e Super Mario della Nintendo Naughty Dog rivelò di avere voluto fare quello che Sega e Warner Bros hanno fatto rispettivamente con il riccio e il diavolo della Tasmania, Taz incorporare un animale che potesse essere carino e reale e che nessuno conosceva veramente nelle fasi di sviluppo è stato scherzosamente chiamato The Sonic's Ass Game letteralmente il gioco del sedere di Sonic proprio per il fatto che il giocatore essendo un gioco in 3D è costretto a guardare e a controllare il protagonista guardandogli la schiena guardandogli la schiena la squadra mandò una spedizione di ricerca sui mammiferi della Tasmania selezionando come opzioni il Vombato, Potoro e Bandicoat i creatori Andy Gavin e Jason Rubin diedero come nome attemporaneo per il personaggio protagonista del gioco Willy di Wombat letteralmente Willy il Vombati il nome non è mai stato concepito per essere definitivo sia per il fatto che suonava troppo imbranato sia per la resistenza di un personaggio amonimo nella serie televisione animata Tasmania il personaggio era effettivamente un Bandicoat rivelato nell'ottobre 1994 ma era ancora chiamato Willy di Wombat perché non era stato ancora formulato un nome definitivo volendo che la mascotte per il loro gioco potesse essere profondo per il pubblico così come il gameplay usato Gavin e Rubin hanno scelto di non dare a Willy delle capacità speciali piuttosto ritenevano che il personaggio dovesse essere buffo, amante del divertimento e muto il mutismo del personaggio è basato sulla teoria che le voci dei personaggi dei videogiochi dell'epoca erano sempre soppe negative e separate dalla loro identificazione il suo aspetto è stato creato dal disegnatore Charles Zambilas sotto l'occhio vigile dei creatori della serie Andy Gavin e Jason Rubin per determinare il colore della pelliccia di Willy Gavin fece un elenco di vari personaggi popolari e dei loro colori per poi escludere quelli che sarebbero stati difficilmente distinguibili con lo sfondo per esempio foreste, deserti e spiagge il colore più adatto scelto per la pelliccia fu arancione la testa del personaggio è stata fatta grande e senza collo per contrastare la bassa risoluzione dello schermo e per permettere alle espressioni facciali di essere percettibili alcuni piccoli dettagli come i guanti e le macchie sulla schiena sono stati aggiunti per aiutare il giocatore a determinare meglio Willy in base al colore non fu aggiunta una coda o qualsiasi cinghia di abbigliamento a causa dell'incapacità della Playstation di visualizzare correttamente tali pixel senza scappallio sempre per questo motivo la lunghezza dei suoi pantaloni è stata allungata quando inizialmente doveva arrivare alle caviglie mentre si preparava la presentazione del gioco E3 il team decise infine di rinominare il personaggio Crash Bandicoot il suo cognome è basato sulla specie mentre il nome di Battesimo deriva dalla attitudine a rompere le casse altri nomi potenziali erano Dash, Smash e Bash inizialmente il direttore di marketing dell'università Interactive Studies voleva che il nome del personaggio fosse Ozzy the Osel o Wetz oltre al già citato Willy the Wombat ma chiamava il personaggio Crash Bandicoot quando la Naughty Dog minacciò di lasciare il progetto poi abbiamo da dire che in Crash Bandicoot la storia di Crash in pratica inizia con il malvagio dottor Neo insieme al destro dottor Nitrus Brio ambisce a conquistare il mondo per farli i due intenzionati a formare i due intenzionati a formare un irrestabile esercito di mutanti costruiscono il raggio Volvo un macchinone in grado di irare agli animali fattezze antropomorfe nel tentativo di creare il generale per i suoi Cortex Commandos il dottor Cortex sottopone agli esperimenti Crash che tuttavia viene considerato un fallimento perché è troppo buono riesce a fuggire dal castello saltando dalla finestra ma purtroppo la sua ragazza Tauna viene fatta prigioniera la mattina dopo è trasportato dalle correnti marine Crash si ritrova in una spiaggia dell'isola Ensanity dominata dagli indigeni e da lì inizia il suo cammino verso il castello di Cortex con l'intento di liberare la sua amata al fianco si schiera allo spirito del potente stregone Aquaku il quale percepisce il bene nell'animo di Crash e decide di aiutarlo disseminando nel suo cammino delle casse con sopra la figura tra la propria effigie dopo aver attraversato Ensanity Island ed aver sconfitto il capo indigeno Papu Papu Crash deve vedersa con alcuni degli altri esperimenti mai riusciti di Cortex Ripper Rooko alla Kong è arrivato finalmente alla terza isola attraversa il Cortex Power centrale energetica dell'isola e sconfigge la guardia del corpo dello scienziato P-Stripe.ru guastando il generatore e lasciando il castello temporaneamente al buio dopo aver affrontato e sconfitto Dottor Drio finalmente ha luogo la battaglia con il Dottor Neo Cortex a bordo del suo dirigibile mentre il castello va a fuoco a causa di un guasto nel laboratorio e spingendo i getti al plasma dello scienziato Crash lo sconfigge distruggendo il suo Overboard e facendolo precipitare nel vuoto nella scena finale finalmente un riunito si attauna si allontana a bordo del dirigibile ovviamente non racconto tutti gli altri capitoli ma soltanto le origini di Crash per il resto abbiamo visto la bellezza di questa figura fatemi sapere ovviamente giù nei commenti se anche voi l'avete in collezione se vi piace e se in futuro la raggiungete alla vostra collezione per il resto vi ricordo di iscrivervi al canale di lasciare un like e di condividere il video se vi va per il resto è tutto e ci sentiamo alla prossima ragazzi allora ciao